Noi abbiamo una proposta da parte Ma è seria? Noi siamo soliti ad andare a Mendrisio al casino Ok, conosco, sì 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 Ti va se un giorno vieni con noi A Mendrisio E giochiamo insieme tutti quanti Puoi dire sì o no? Minchia vero Lo so, lo so casino, però siente Andiamo a Mendrisio stasera Andiamo, vai andiamo No, abbiamo la macchina parcheggiata di là No, domani lavoro, però andiamo Andiamo Dai raga, facciamo sta pazzia Ok, piccolo panettoncino Ma va, fa' in culo Scusa, mi racconta, c'è 50 euro nella slot? Ho preso i 150 Ho preso i 150, il mago delle slot Qua l'artista fa il suo colpo, va bene Riccati altri 50 Mi hanno dato pure due franchi Per giocarli sul 17 Ovviamente li abbiamo persi Vai, panettoncino aggressivo Quanto c'abbiamo di saldo qua? 34 franchi Eh minchia Vai, giochiamo sul 17, sul 20 Sul 31 E sul 33 Il numero di Cristo Quanto c'ho? Minchia, puntata a 20 franchi Rimanenti di 21 Dai Dio Cancarello Cos'è? 5 Porco Dio Porco Dio Porco Dio Niente Siamo già in un pozzo Con 50 euro Dio cane Dai minchia 70 euro così Però la rulla Fare il coglione Mi sento un po' male 11, 12, 14, 15 17, 20, 23 Quelle partite che tutti giochi Le schettine Ah sì sì I virtuali dei cavalli I virtuali però Mi ha dato che la gioca pure I virtuali dei cani I virtuali Sì I virtuali dei cani 24 Ma porco Dio 24 no Ma vaffanculo Andiamo a giocare No Ok Fede Dopo i 70 persi Ad Arulla Provevo 500 E andiamo Al BJ E' il massimo Che mi gioco stasera 500 E poi basta E poi basta Per la serata Per il divertimento Prelevati In franchi Perché sennò Non ci si sente abbastanza svizzero Ma sono 500 Penso di sì Sì Ah sì Ho perso in mezz'ora I primi 500 Ne sto prelevando altri 500 Con tranquillità Con tranquillità Con tranquillità Sempre prelievo Sempre prelievo Gli ultimi 500 Solo perché ho vinto 5k Al Cachante L'altro giorno Di rendo Storstizio Allora Un ragazzo È venuto Dal raduno Della live Alex Lo ringrazio Io ho fatto vincere 140 franchi E mi ha offerto Un gin tonic Molto gentile Cos'è Cos'è bro È una briochina Grazie Grazie Ho perso un k Ma ci sta Avevo vinto 5k Al Cachante Ma un k Già volato E sono triste Sono un coglione Fede Mille euro persi Ma comunque Abbiamo il nostro profit Bro Ho sbaliggiato I gadget Cioè tutti i fiammiferini Bro Tutti i fiammiferini Guarda che io vi lascio Oh questo è buono Deluxe Questo è buono Deluxe Questi sono 24 euro Di me Vabbè ci sta Ciao Fedeiu Ciao Fedeiu Ciao Fedeiu Ciao al mio canale Ciao chat Ci vediamo domani Fedeiu Clippati questo Oh quanti sono questi bro Vabbè 22 euro Dai Un saluto Pensavo fosse esplosa Un saluto Hai vuto Un saluto anche tua madre A casa magari Questi quanti sono? 28 euro Vabbè però Cioè comunque In questo sommato Non è che stava Sendo troppo schifo Fede non so cosa Stia succedendo Oh questi sono buoni Bro Questo è tutto wild Bro È tutto wild Ma come 39 euro Perché non collega La prima linea Ma porco 40 sei tornato Allora Qua ci sono i ludos Ho visto Leo giocare Dopo i mille persi Al BJ Penso andrò a prelevare Un centino Da giocare alle slot Per concludere la serata Preleviamo l'ultimo centino Della serata Perché Voglio rimanere umile Withdraw Frankie 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 Non mille Cento franchi Mix Dai 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 Che bisogna giocare l'ultimo centino Le slot mi riporteranno la galla Le slot faranno risorgere la fenice Io ci credo Io ci credo Dai sgancia bro Sgancia bro Ok let's go Ultimo centino E si sogna le slot Allora Ho beccato il bonus Fede Ho beccato il bonus Ho beccato il bonus Ok 37 euro di merda presi Fede Non schifo del totale 37 del cazzo Continuiamo Fede ho sbancato Fede non so quanti sono Fede ho sbancato Fede ho sbancato Ho sbancato Quanti sono bro Quanti sono Cento euro Per già cento euro ci sono i free spin Ci sono i free spin bro Wild Ma sei una merda Dai chiudimelo Chiudimelo a meno uno Chiudimelo a meno uno Ma va Fanculo Quanti sono 150 euro Ma va Ma che mi hai rispetto 15 euro Ma rimani Li respinno a tutti bro Va bene altri 5 euro Dai veloce Va bene dai dio cane mi sta vedendo la tipa va bene 125 dai pagami ancora bastardo oddio 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 quanti sono pochissimi ma è una merda bro perché non c'erano simbi buoni 143 euro sono entrato con 50 sto a 200 neanche troppo male buono 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 fede va bene ok fede è entrato con 50 uscito con 150 ci posso stare ultima puntata ho preso l'undici quanti sono quanti sono 108 vai ripetiamo 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 bro lo stesso sistema stesso sistema stesso panettone stesso panettoncino ultima puntata preso l'undici preso il cazzo di undici 46 di puntata panettoncino pazzo metà del saldo avanti 35 va bene si riprova all in e poi si va a casa ultimo panettoncino pazzo fede avanti avanti 4 4 4 4 4 4 andiamo a casa dai via vai fede mi gioco gli ultimi 150 bet 5 bet 5 e si prega spinno come un drago spinno come un drago l'ho caricato 150 bet 5 l'ho persi tutti l'ho caricato 50 bet 5 appena vinto 400 la mia vita è una merda odio tutti siamo usciti ciao fede ciao gruppatici ho perso 1100 euro stiamo tornando a casa serata un po' bozzeggiante non per tutti non per tutti quindi fai un buon lavoro a editare questo vlog ricordiamolo meno 1100 ma si esce col sorriso è la mia vita di drag per lo di attenzione porco dio posso dire cani say hi to fede you hi fede you hi fede you you are the best promoter in the town best 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 best